Hillary Clinton presenta ufficialmente il suo vice Tim Kaine, l'outsider, l'uomo senza qualità, noioso per sua stessa ammissione, ha spiazzato tutti con un messaggio agli antipodi di quello di Trump. Senza cravatta, molto alla mano, lontano dalle paillette repubblicane, Kaine è stato presentato senza fronzoli dalla Clinton. Devo dire che Tim Kaine è tutto quello che Donald Trump e Mike Pence non sono, è qualificato per questo lavoro ed è uno che le cose le fa sul serio. Anche i modi e il messaggio di Kaine sono agli antipodi di quelli degli avversari, anche se l'uomo ha convinzioni che possono dividere. Anti-abortista convinto, si è evoluto verso la convinzione che lo Stato non debba intervenire nelle scelte personali. Fatemi citare una frase di Harry Truman, che avrebbe potuto essere scritta cinque minuti fa. L'America non è stata costruita sulla paura, è stata costruita sul coraggio, sulla fantasia e su di una indefettibile determinazione di compiere il lavoro. Amici, Hillary è piena di questo coraggio, di questa fantasia e di questa indefettibile determinazione. Kane ha poi parlato in uno spagnolo fluente, appresso durante gli anni di lavoro con i gesuiti in Centro America, rivolgendosi all'elettorato latino per rassicurarlo del fatto che nessuno sarà lasciato indietro. Il ticket democratico è dunque pronto a battersi.